Ha liberato con l'esterno, non si è arrivato bene con l'interno, qui grande parata, insomma il piede è da campione, non ci niente a fare, poi la statura complessiva ovviamente non lo è, non l'ha dimostrato in carriera, però il piede è veramente quello di Lodi. Ha liberato con l'esterno, non si è arrivato bene con l'interno, qui grande parata, insomma il piede è da campione, non ci niente a fare, poi la statura complessiva ovviamente non lo è, non l'ha dimostrato.